La camionale Genova-Serravallo-Scrivia è un'opera ideata dal Duce che ne ha fissate anche le caratteristiche fondamentali. Per le dette caratteristiche, la finalità di servire un intenso traffico merci, essa si stacca da un grande pierale che richiede lo sbancamento di un'intera collina e che ha 50.000 metri quadrati di superficie, nel quale sosterà e si svilterà il traffico camionistico. Uscita dal piazzale, la nuova arteria passa con due gallerie attraverso il contrapporte fra Genova e San Pierdarena, segue la valle del Polcevera fino a Pozzaneto e quindi la valle secca fino a Serra-Ricò. Le valli del Polcevera e dell'Oscridia sono, per la genialità e la volontà del Duce, un immenso e sonante cantiere in cui lo sforzo delle nostre inarrivabili maestrante si armonizza con la potenza delle macchine per il compimento, secondo gli ordini del Duce, di questa grande opera. Grazie